I giapponesi sono molto bravi, vanno in Italia, studiano e fanno le cose per bene, ecco, anche perché c'è loro con le gambe di perro che fanno di tutto e diventa un'arte, no? E quindi questo porta a un risultato, a un bellissimo risultato, vero? C'è sempre un po' di giapponesino nel mezzo, per esempio, fanno molta salsa, la salsa che non attacca bene alla pasta, insomma, la vita no. Sono le persone che hanno mangiato la cucina italiana nei primi anni quando l'abbiamo fatta noi, mi hanno fatto molto piacere perché seguivano molto. Mi fa sedere un po' vecchio, ve lo fa piacere.